Oggi a spasso con ABC ci ha portato alla scoperta della millenaria abbazia di Monte Cassino, luogo di terribili distruzioni ma anche di imprevedibili rinascite. Lì ci ha accolto Giacomo Ferrara, protagonista della serie Suburra. Abbiamo poi visitato il Museo Istoriale, allestito nel 2004 in occasione del sessantesimo anniversario della battaglia di Monte Cassino, e realizzato con gli effetti speciali dell'autore di Alien et King Kong, più volte premio Oscar. Abbiamo avuto modo di sperimentare, di vivere la battaglia di Cassino, la storia della battaglia di Cassino, attraverso un percorso emozionale che ci ha fatto ripercorrere tutti i momenti salienti della battaglia e poi nel pomeriggio, nella splendida location del Museo Camusac, abbiamo potuto ammirare anche grandi opere di arte contemporanea, una collezione privata che si è formata nell'arco di 25 anni e che ha arricchito il patrimonio turistico, l'offerta turistica e culturale della città di Cassino.